Riapertura parziale del Parco Cimino chiuso da quasi un mese in seguito alla caduta di dieci alberi di pino dovuta alle abbondanti piogge dei giorni 21 e 22 agosto scorsi. Il sindaco di Taranto Melucci ha firmato una nuova ordinanza sindacale che ha come oggetto riduzione parziale progressiva del divieto di accesso a Parco Cimino per le attività di messa in sicurezza. Nel viale principale il pericolo di ulteriori schianti è stato scongiurato con l'abbattimento di altri 20 alberi pericolosi per la pubblica incolumità. Ora sarà necessario permettere agli incaricati di verificare la stabilità degli alberi esistenti sull'area del parco. La nuova ordinanza sindacale dà comunque chiare indicazioni sulle modalità di riapertura parziale al pubblico e severe prescrizioni da osservare rigorosamente. La parte di Parco Cimino transennata e delimitata da nastro è perentoriamente inaccessibile a chiunque non rientri tra i soggetti indicati nell'ordinanza. Il personale addetto alla custodia del parco oltre a garantire l'osservanza del divieto assoluto di accesso alla parte interdetta provvederà all'evacuazione immediata anche delle parti accessibili nelle giornate in cui ci sia vento e pioggia e provvederà alla chiusura precauzionale in caso di allerta gialla o comunque di vento che superi i 60 chilometri orari. Nei prossimi giorni potrà essere disposto il progressivo spostamento di transenne del nastro delimitatore soltanto in seguito al previsto aggiornamento della verifica di stabilità degli alberi che per motivi di sicurezza si svolgerà a zone.